Salve a tutti i corsari del web, io sono il Coissaro e quest'oggi siamo ritornati qua su Hearthstone finalmente Dunque, piccolo preavviso, quest'oggi sarà una giornata interamente Hearthstone E attenzione, attenzione, annuncio wow, uscirà un altro video alle 5 Ok, quindi ci sarà 1 alle 3, 1 alle 4 che sarà lo spacchettamento dei 166 pacchetti della nuova espansione Che adesso, è successa una cosa un po', vabbè adesso ve la spiego giù Mi è stata da corrente durante la registrazione, quindi non so se, cioè, io la vedo Cioè la registrazione la vedo, non l'ho ancora provata a inserire nel programma in Vegas Perciò non so se riuscirò ad editarla Però intanto, c'è ma non c'è, non lo so, vediamo se riuscirà completa E poi alle 5 appunto, uscirà una sorpresa, una sorpresa da voi richiesta Quindi signori, preparatevi Oggi però, voglio farvi vedere un po' che cosa ho fatto io dopo lo spacchettamento Che voi non avete ancora visto Allora, questi sono i mazzi che ho provato per ora Dragon's Lair, che sarebbe, vabbè, il mazzo predefinito del cacciatore Con il potere eroe e super cancro, che volevo provarlo giusto per vedere quanto era cancro Pirate Warrior, perché per mia sfortuna, aggiungerli, ho trovato Arcar L'arma leggendaria del guerriero Avevo il preferito, cioè, trovare alla morte per fare tipo un Dragon Warrior Però, eh, per quello forse aspetterà Però la Dust ce l'ho nel caso qualche leggendaria posso ancora craftarla Poi, i due mazzi che sto giocando di più sono Galakrond Quest Shaman Che prima avevo fatto Galakrond Dragon Shaman, così come primo mazzo Andava bene, poi ho visto che effettivamente il Galakrond più quest rompeva il culo A me, a quel mazzo mio archetipo Dragon Galakrond Quindi ho detto, proviamo anche noi Ed effettivamente è molto rotto E poi mi sono craftato anche un Galakrond Contro il Rogue Quindi, signori, io direi che, ora come ora, in questo video faremo una bella partita Sia con il Galakrond Quest Shaman, sia una partita con il Galakrond Contro il Rogue Così, perché sono, diciamo, di mazzi che... Da quando ho visto un po' in giro Cioè, in realtà, il più recente che ho visto Che ho comunque percepito in giro Da prima che ho uscito l'espansione Era dopo che era uscito Galakrond del Shaman Che era tipo l'ultima carta E allora, ladro, 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 ladro Allora, ci teniamo il predatore Fauci di Drago Perché potrebbe benissimo avere il Dragobaldo Il 7-5 Drago, no? Quindi, ok, interessante Non avevo ancora incontrato Buona festa a te, quest Allora, perché adesso bisogna vedere un po' Perché lui forse andrà sul Tess Ok, sportrice avventurosa Molto, molto buono per lei averla trovata Io credo che farei Trincafango Buono Non so se evolviamolo Ok Cioè Può sembrare uno spreco Forse lo è, però Tanto vale Ce l'abbiamo Utilizziamole Invochiamo già Galakrond una volta Certo, abbiamo usato un po' tante risorse Però, dai, ce lo Ce lo Ce lo perdoniamo In fondo il quest Il quest shaman Se parte bene Non solo un partito nel migliore dei modi Ha una value pazzesca Ok, mi ruba già una carta Evoca un'arma Non può attaccare perché l'ho congelato E via Qua Nizog Molto utile Quando si ha il potere eroe Del doppio grid di battaglia Un altro 1-1 Ok, quindi possiamo continuare ad attaccare il turno dopo Vediamo un po' cosa fa Credo che innanzitutto attaccherà il lacchè Perché non vuole Infatti Perché il lacchè nelle mie mani sono pericolosi in campo Appunto per la vespa armata Che se controllo nulla Che infliggo 3 danni Passa forse Ok Molto buono Non so se giocare il maniaco No, ce lo teniamo Ce lo teniamo fino a che non gioca Fino a che non gioca una carta Tanto vale controllare bene quello che ha Perché se gioca la 4-3 Che Rimiene una Una carta di una Ecco Infatti stavo giusto giusto parlando di te mia cara Ah ah E Chi lo sa Magari riesco anche a preservare la 2-2 Vediamo adesso cosa peschiamo Intanto Ha un'ardua scelta lui Intanto io ho ancora un po' di tosse Ok Giusto Passa Totem del male Allora Questo sarebbe Molto bello riuscire a giocarlo Il prima possibile Purtroppo in questo turno non riusciamo Perché voglio togliergli la 4-3 Gli voglio togliere la 4-3 In realtà Ho Ho un terzo di possibilità Che mi arrivi il totem con provocazione Se questo dovesse accadere sarebbe molto buono mettere il totem del male Solo che Non lo so No dai giochiamo Giochiamo un maniaco devoto E andiamo avanti dai Per il signore dei draghi Intanto Galakorn è già di potenza 2 Il prossimo turno Io giocherei in Izzog Se non fa turni troppo pesanti Ma in fondo questo mazzo suo Di turno 6 Mi può giocare il 3-5 con assalto Che è fastidioso Ok mi gioca un'altra scagnozza In realtà è buona la cosa Ah Cacchio Un segreto del cacciatore Vediamo un po' cosa peschiamo L'elementalista corrotta Ragazzi Elementalista corrotta Molto importante Che così potenziamo Galakorn Già al massimo Vediamo anche che segreto è Che se era Colpo di cecchino Non era colpo di cecchino Trappola di serpi Cavolo Beh Bisognava Bisognava triggerarglielo Prima o poi E quindi così Quindi con quei 1-1 Mi potrà dare il 3-3 Però forse Utilizzerà qualche risorsa Immagino Per far fuori il 3-3 Così per avere Eh Infatti Addirittura Zilex Tra l'altro Utilizza Zilex Per pulire Sicura Mi attaccherà Fatto Forse no Esatto Elimina il totem Dei danni Magici Anche quello pericoloso Evoca l'arma Attacca anche faccia Beh giustamente Io direi che potremmo anche evocare Agatha Sì dai Mettiamo Agatha Peccato non giocare la turno 9 Col potere eroe però Eh Sì attualmente vorrei cercare di far fuori Lo Zilex Per lo anche faccia Ok Dai ci sta Ci sta Ci sta Perfetto Ottima Ottimo Grade di battaglia Probabilmente lo giocheremo nel prossimo turno Perché credo che giocherà altri servitori Gatto del faraone Assassina del deserto Cattiva Ok Pugnata le spalle Cosa Mandi Zilex No Ok Infatti Fa così L'amico fa così A sto punto non lo so se giocarlo Perché sì E' uno spazza Questo è molto interessante Facciamo così Punto questi Sono 2-5-6 grazie al potere di Galacron E mi metto finalmente il totem del mare Che mi inizia a dare dei lacche Lacche del drago Buono Adesso vediamo un po' cosa combina L'amico Dunque il 5-6 Questi 5-6 È una carta molto forte Questa da 5 di Galacron È veramente Incredibilmente Control Faida Ok Prima Faida Vediamo cosa fa Sono molto curioso adesso Di vedere il suo turno Una Faida l'ha usata Molto importante Ah Sap Diventa un 2-3 Oppure un grido di battaglia No è un 2 Però costa 2 Costa 2 Ok Non costa 5 Non costa 2 Ok Molto svantaggiosa per lui Quell'arma per evocare i suoi Servitori Però Ora come ora Ah Piano del Dottor Boom Interessante L'ha trovata dai Che buona la maniaca devota Però A me Cioè Actually Io vorrei Fare un po' di Casino Adesso Nella sua mente No Allora Ha parecchi danni Ma non credo che Speriamo che non abbia L'Iroi in mano Quello sarebbe molto problematico Eeeh L'Extrasa Così In amicizia E poi io direi Che Se non ha l'Ital Deve occuparsi di questa cosa Che gli arriva Perché questa cosa Che gli arriverà adesso È pesantissima Vai Nittog Gli mettiamo 4 uova 0-3 Cosa fanno queste uova ragazzi Probabilmente lo saprete già Da Da altri streamer Più conosciuti Ma All'inizio del tuo turno Si trasforma in un dracco Della Tempesta 4-4 Con assalto È una carta molto forte Cioè Un servitore molto forte Infatti adesso lui lo guarda Dice Oh my god Se hai l'Ital Cosa che però Non credo Attacca tutto faccia Traversimento staggaccio Ah giusto È vero Lui doveva ancora fare la quest Mi ero dimenticato Ancora poco Che era un quest Rogue E adesso vediamo però Credo che L'attivi Per farmi fuori Una delle uova Nel caso Infatti Ah Punta sul 5-5 Ok Vorti Oh Cavolo Questa è brutta Davvero notevole Veramente Questa è stata pesante Questa è stata Veramente pesante Ehm Cosa faccio Facciamo così Teschiamo Ok Kronx Vabbè Mettiamo una provocazione Facciamo così Ok Cioè Cioè la provocazione Muore Perché muore Per via dell'arma Del La sua arma Però Tantomeno Non ci becchiamo Tre danni faccia Siamo molto vicini Al Ok Cosa Ventaglio di lame Ok Buono allora che abbiamo tenuto la 2-2 Il gatto del farone È il terzo che gioca No forse mi sto sbagliando Mumia generosa Potrebbe essere un guaio per lui la mumia generosa In realtà eh È generosa per me Non per lui Ehm Vediamo un po' Sì Ci sta Ok Adesso Eh Devo dire che È una mossa Decente eh Sembra È una mossa Molto buona In realtà Il problema Si Vai Intanto questa la giochiamo Così giusto per Però il problema Si pone Eh Al sapere se ha Liroy in mano o meno Perché se ha Liroy in mano Io sono altamente Fottuto Ma pesantemente proprio E potrebbe averlo Comunque sia sono un off-lit Al se ha Liroy C'è gli oscuri C'è gli oscuri Ah ok Molto fastidioso Sono incredibilmente vicino a Littal Cioè lui è vicino a Littal Non io Non abbiamo ancora pescato nessuna delle Vespe No Perché Adesso Io potrei anche pulire il campo Facendo Dardo di Fulmini In faccia e Tempesta di Fulmini No E vado a 3 Di Di sovraccarico Dopo uso il potere eroe Pesco due volte Però non sistemo nulla Però non sistemo nulla Nemmeno pescando le Vespe No in realtà pescando una Vespa Attornare a 7 punti vita Eh Boh sentite Facciamo così Potere eroe No aspettate Bisogna vedere Oh no Dovevo farlo prima Cacchio l'animazione Vero In realtà Non credo di vari carte Da costo 1 Ok Ok Eh Ok Vediamo Molto probabilmente Potrebbe avere benissimo sventramento E averla finita qua Adesso vediamo un po' cosa fa Però credo sia persa questa Sia persa Sono un malaccio Nel capire che carte tenere Nella prima Ah Cacchio dai Ma da quello non mi aspettavo Ma dall'RNG Sono stato battuto Vengo sempre battuto Dall'RNG Tanto Ah Che disgrazia Eccoci qua Comunque da come avete potuto vedere Diciamo Ho sicuramente sbagliato A tenermi il 4-4 In mano Però mi è già capitato Più volte di incontrare Invece quei Quei Rogue Che giocano Il 2-5 Che combo Pesca una carta Assume il Rantor di Morte Cioè Pesca un servitore Con un Rantor di Morte E assume E prende il suo Rantor di Morte Che Gli arrivava Il 7-5 Che quindi Era parecchio Maledetto Diciamo Adesso lo facciamo Un po' anche noi Allora Furtiva dell'Ombra Non vale la pena Terla in mano La Loda Galacrond Sì Che così Ci potenziamo già Galacrond Ragazzi Che palle Ma rendetevi conto Quelle ho buttato via Quelle mi sono tornate Ma Gesù Santo Mamma mia Che palle Va bene Va bene Non sono affatto felice Di questa cosa Però Me ne farò una ragione In fondo A volte le Rangie Non è proprio Dalla nostra parte Il più delle volte Quindi Cosa fai? Te stai fermo Un aggro C'è tempo Quello che Allora Se comunque Fate conto L'Ombra di Morte La uso O per i 7-7 O per i 2-2 O per Dragobaldo Solo per queste le uso Uso L'Ombra E a volte Cioè comunque È una magia utile Perché volendo Se l'avversario Mette una corta Stronza Ci prende anche quella Non ci fa sicuramente Schifo Furfante del male Beh Perfetto Perfetto Facciamo moneta Furfante del male Ok Ok Molto interessante Sarebbe bello Che me lo lasciasse in vita Così lo evolviamo Che così Un bel servitor A costo 4 Ci sta Ok 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 Va bene Va bene Pensavo ci fosse Da preoccuparsi Non ancora Non ancora Ci sarà tra un po' Da preoccuparsi Non appena Secondo me Se li potenzia Quelli là Allora Fatemi dare un'occhiata Cosa si può fare Facciamo intanto Loda Galac Eh no Perché tanto Le evolviamo Cosa facciamo Loda Galac Male Divertente Trasformiamo Grazie Grazie In realtà possiamo fare così E metterlo un po' in difficoltà Doi tipo Ti becchi 5 danni in faccia Per tradare il 5-2 Eppure non fai nulla Adesso Poteva venire Un servitore migliore del 5-2 Eh Assolutamente Adesso vediamo cosa fa Sicuramente lo tradda Ma anche con lo sventamento Quello sventamento in meno Nel suo repertorio Mi sta benissimo Aspettatemi Che simpatico Aspettatemi Che lo lasciano solo Eh Immagino che mi trovo Un drago adesso Eh Sì Sulle ali Del male Un secondo dragoboldo Non sarebbe affatto male Averlo nel mazzo Eh Non lo so Eh Che torno 5 vogliamo fare dopo Ma sì Prendiamo dragoboldo Dragoboldo Eh Troviamo questo Ancora poco Che non se lo riprende in mano L'oda galacrond Questo qui me lo tengo Peschiamo la carta E Ok Va bene Dai il sap ci sta Il sap ci sta Averlo Adesso vediamo un po' Cosa fa Aspettatemi Aspettatemi Oh Ne aveva altri Ciao Edwin Mio caro Edwin Carissimo Edwin Glielo rimettiamo in mano Ma sì Certo Rimetterlo in mano Non è una scelta Cioè È una scelta Per avere un problema In meno adesso Solo che Rimettendoglielo in mano Gli diamo più occasioni Per poter Per renderlo più grosso No Quindi anche quello Un problema Adesso vediamo Cioè Gli abbiamo pulito la board Quindi per ora Siamo messi a posto Adesso bisogna vedere un po' Cosa fa lui ora E Ah Spirito dello squalo Questa è brutta E lo spirito dello squalo È brutta Perché potrebbe creare Un Edwin Veramente gigante Con lo spirito dello squalo Mi rendo un Edwin Che neanche voi potete Oh Eh ma Giocare ora a Kronx Non ha senso Cioè È troppo debole Il nostro Troppo debole Il nostro Galakrond Per pescarlo Poi contro Agro Sarebbe Meglio Cioè In realtà Averlo in mano Con la luce nostra Oh Ok Ah cacchio Vero Doppioglio di battaglia Cacchio Verissimo Ma cacchio Quindi mi può fregare La grande Volendo anche Bisogna fargli fuori Quello 0-3 Ogni volta Me lo dico Me lo ripeto Forse dovrei Metterlo anch'io Nel mazzo Ma non lo so Quello non lo so Sicuramente È molto fastidioso Eh Boh Comunque se non ci sono Boh Oddio Con due Non credo Che riesca a far Che maledetto Ma in realtà lo sapete Che potremmo fare Una figata Ecco Facciamo così Che ne dite Adesso il nostro Galacron Non fa più tanto schifo Allora Prossimo turno Direi che lo invochiamo Un'altra volta Se fa cose folli Uso subito Il Uso subito Galacron Pesco due carte A costo 0 E speriamo di pescare Un altro Kronx Va faccia Ah cacchio Gioca anche lui Galacron Miseria Doppio grid di battaglia Tra l'altro No Dei tuoi servitori Oh Cobaldo maledetto Tra l'altro Doppio cobaldo Che Palle Quello 0-3 Deve essere fatto fuori Per ora Come ora Ha troppi danni In campo Vediamo un po' Il da farsi La che con evolve Molto buono Molto buono Ci garantisce una board Cattiva Diciamo Cattiva Ma non indistruttibile Ci siamo Ok Giochiamo anche lei 3 monete Oh Si spera Che non faccia Follie Ricordiamo che Allora Lui ha 7 danni In campo Ricordiamo che Potrebbe benissimo Avere l'eroe Non so se fa 5 danni A tutti Aia Ok Onesto No Non puoi avere vita Cosa fai? Lo fa anche lui Però peggio Sono più bravo Io In quella In quella mossa Oh Dai Ho perso No Uno flital Allarma Sono uno flital Ragazzi sono uno flital Letteralmente Porca miseria Oh Ok 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 Forse Forse ci tiriamo fuori dai guai Eh Ma forse Dico Ma intanto Galacrond Ci fa pescare Due carte Quindi Tanto va tutto facile Perché tanto adesso Distruggiamo tutto Usiamo una coin Andiamo a 10 mana Galacrond Galacrond Scudo Cronx Perfetto Che sennò Ero morto Praticamente 5 danni agli altri servitori Prendiamo Scudo di galacrond Ehm Volendo possiamo anche fare Coin Coin Dragon 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 Ehm Fatemi pensare Può uccidermi sia il secondo sventramento Vediamo Cioè ho avuto molta sfortuna io in queste partite Veramente molta sfortuna Eh Con Galacrond Con Cronx Ha 5 danni Gli manca uno Che può essere un laccheo qualunque cosa Ok ovviamente Sta pensando Quindi Non ha il lethal A meno che non vuole fare il Il simpaticone Ce l'ha Lo cerca Sono Sei la che Ok Provocazione Corrano di Zarog Orca miseria Potremmo sembrare nei guai Un po' lo siamo Ma Neanche troppo Allora Intanto tu vai qua Per forza Lui va là Ehm La che Oh Gesù Santo Veramente Ehm Ma che palle Ma che palle No Ho provato a cercare Una provocazione Per sperare di curarmi Ma Mica eh Proprio sfiga C'ho Ma comunque Da quello che ho visto Lui non aveva lethal Prima Quindi o lo trovo Beccato adesso Oppure lo trova con Adesso c'è paura Ah Non sono affatto felice Senti te Guarda Guardate Io Non sono affatto soddisfatto Di questo video Va bene Quindi Voglio fare un'altra partita Con lo shaman E vincerla stavolta Perché Cioè Rendetevi conto Che sfiga Maledetta Aspettate che muoio diretta Buono il totem Buono 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 il totem Ok Questa è una Questa è una mano Con cui cominciare Questa è una mano Con cui cominciare Ok L'unica cosa che spero Che non Che non cominci già Con l'1-2 di Galakrond Che se no Beh in realtà Non mi impedisce Del tutto Di giocare il totem Del male Perché non fa Altri tipi di danni Credo Questa Vediamo un po' Potrebbe essere Agro Con la Accolita Oppure Galakrond Che Forse Non Ah Perché Lo fate Sempre E' un agro Un agro Eh C'è In realtà Che schifo Peschiamo C'è C'è Poco da fare C'è veramente Poco da fare C'è il totem Purtroppo Il totem del male Ha dei grossi Counter E sono Questi qua Beh intanto Grazie per avermela Tenuta in vita Per soltanto Non facciamo sia Ingegnera Che totem Vediamo Mi sento morto Oh Gesù 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 Va bene Va bene Va bene Va bene Tranquillo Transolli Che Eh Ma in realtà Naturalmente Giocare il totem C'è tanto vale Visto che troviamo carte Per pescare Peschiamo A sto punto Peschiamo Allora a parte A parte che Quei due sette Bisogna buttarlo giù Il prima possibile Che se trova spiriti divini E cose Qua io perdo Che è Una bruttezza Proprio Cosa fai Intanto Il prossimo turno Sicuramente L'elementalista Corrotta Giochiamo eh Sicuramente Ci serve value Per buttare giù Quel maledetto Anche Anche senza nemmeno Ucciderlo L'importante è buttarlo giù Di vita Perché non dobbiamo Lasciare l'occasione Di potenziarlo Ah Ok Va bene Certo L'odio Perché non riesco Ancora a buttarglielo giù Del tutto Però Almeno Va a uno di vita A uno di vita Mi preoccupa meno Quell'affare Diciamo pure così Mi preoccupa Molto meno Vederlo a uno di vita Piuttosto che a sette Adesso Cosa vuoi fare? Ah Mortacci sua Su via Su via Toroncino che cosa vuoi fare? Scuto di Galacrondo Non lo so Grizzly Allora è veramente No non lo so Forse Wall Priest Può essere un Wall Priest Effettivamente Actually In qualche realtà Corrotta Non so Però cosa voglio fare Finalmente potrei giocare Anche il Totem del Male È così Solo che Trado tutto Facciamo così E via Non è la cosa più vantaggiosa Di tutte Sicuramente Cioè Devo dire In realtà Che avessi fatto così O con la Beh Effettivamente Se avessi giocato L'Elementalista Sarebbe rimasta Un 3-3 In campo Invece che un 0-2 Però E così va bene Più che altro Perché comunque La che strega Insieme a lei Tanta roba Perché diventa Un servitore Che evoca così Scusate Mi sta partendo Un po' la voce Cicciazampa 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 In realtà Non so Cioè io Facciamo così Mi sembra molto buono Anche perché Comunque diventa anche questo Scusa 6 No? Quindi facciamo così Così E vai Ehi Oi Ah Deve essere la connessione Ehi Un 7-6 È diventato Tanta roba questo Molto bello E ha già usato Entrambe le parole Cioè le parole Proibite Ne vediamo Cosa fai? Adesso Amico mio Devi pensarci bene I strati di massa Non gli può pulire tutto Infatti Mi è anche adatta Molto bene Perché è rimasto Con più vita Di quello che poteva essere Oh Ma io te volevo Amico mio Sapete che però Potrei Riprendermelo in mano Lui Sì È cattivo Averlo in campo Però se me lo riprendo In mano Attualmente È più Maledetto Perché significa Che io Posso Maledirgli i nemici In maniera Maledirgli i servitori In maniera pazzesca Ma sapete che Actuali Ce lo prendiamo in mano Ce lo prendiamo in mano E voglio vedere adesso Con che coraggio Mi butta i servitori Anche i più grossi Più forte di questo mazzo Sappiatelo Questo è il turno Più forte Del Galakrond Shaman Quest 4-8-8 Con Rush Un'arma 5-2 Cosa volete di più Dalla vita Certo perdiamo il potere Del doppio grid di battaglia Però In se per sé Quello serve all'inizio Per tankare Pesante Cioè Nemmeno per tankare Per essere aggressivi Questo è il massimo Di aggressività Che può avere il mazzo Ha già usato Un'isteria di massa Quindi Ha poche probabilità Di averne un'altra in mano Forse Devo pensarci bene Piega della morte però Diciamo Piega della morte Che in realtà A noi va anche bene Perché va anche bene Ma anche bene Perché Se io facessi Ciccia zampa adesso Cre Eh no perché Potrebbero spuntare Tanti tanti 2-1 In realtà Dipende dall'ordine Allora Potrei evocare 2-5-6 Potremmo settare Little Perché se facciamo così Settiamo Little Settiamo Little Perché sono 17 danni esatti Sono esattamente 17 danni Quindi lui Si deve fare qualcosa Vabbè A parte che si può curare Andare a 19 E allora Non abbiamo più Il Little Ok Fa il Wall Priest Giustamente 3-12 Fuoco interiore Un po' lo immaginavo Però Però Signor Wall Priest Signor Wall Priest Adesso Vediamo se HP Bella giocata intanto Perché abbiamo vinto Spottate il Little Io L'ho già visto Intanto comincio Eh Che bello Eh signori Veranus C'ha salvato Ci ha fatto trovare Little È stata una Una mossa intelligente Pescarlo A questo punto C'è Prenderselo in mano No Ok signori Sono soddisfatto Questa cosa bella Di aver trovato Little Con una carta Di una classe Che non è la mia Mi è piaciuto un sacco Quindi sì Spero che il video Vi sia piaciuto Sappiate che Tra una Provo a indovinare Tra una mezz'oretta Forse il video D'ora a mezz'ora Quindi Tra una mezz'oretta Uscirà Invece lo spacchettamento Dei 166 pacchetti E tra Invece Un'ora e mezzo Uscirà Una sorpresa Di segnale Spero che il video Vi sia piaciuto Buonasera Se vi lasciate Discrivetevi al canale E vi saluto Per supportare il canale E come un saluto Ci vediamo Prossima volta Con un nuovo appuntamento Su Warzone Che Cominciamo a portare Un attimo di più Adesso Perché comunque Le nuove espansioni Sono figlie Questa in particolare Dove fare altre Cioè Arrivederci Prossima Grazie a tutti.